Buonasera a tutti, puntata dedicata alla politica. Al centro-sinistra e all'assemblea del Partito Democratico, che si è svolta lo scorso fine settimana, un'assemblea che ha visto redare le nuove regole per le primarie del centro-sinistra, che sceglieranno il candidato premier per le politiche del 2013. Una linea, quella uscita dall'assemblea di Roma, che in qualche modo conferma la linea di Bersani. Quali sono i commenti nel biellese? Qual è l'umore dei democratici biellesi? Lo chiediamo innanzitutto a Rita De Lima, consigliere comunale a Palazzo Roppa, esponente del Partito Democratico e Bersaniana Doc. Ecco, un suo commento alla giornata di Roma. Devo innanzitutto dire che le assemblee del Partito Democratico sono assemblee larghe, partecipate. Queste in modo particolare, 949 presenze su mille, dimostrano l'attenzione e l'importanza di questa giornata. Il nostro Partito Democratico di nome e di fatto chiama a raccolta, spesso, almeno 3-4 volte all'anno, tutti i delegati in questa assemblea per discutere il progetto e le proposte del Partito Democratico. E questo, secondo me, è un grande esempio di partecipazione, di innovazione e anche di lavoro comune di questo grande partito. La giornata di sabato che si preannunciava una giornata piuttosto faticosa e anche difficile proprio perché c'erano in discussione alcune regole. Voglio solo ricordare per tutti che le regole stabilite precedentemente prevedevano che comunque il segretario del Partito fosse di fatto l'unico esponente deputato ad andare a presentarsi per fare il premier e quindi per concorrere alle elezioni, eccetera, eccetera. Visto e considerato che all'interno del nostro partito si discute, si elabora, si lavora, si litiga e si parla e si decide tutti insieme, e visto la partenza di Renzi per dire io mi voglio candidare, allora abbiamo tutti insieme trovato un modo per fare una deroga che permettesse a più esponenti, quindi non solo a Renzi, a più esponenti di poter partecipare a queste elezioni. Ben ricordando... Regole ben precise, come abbiamo capito, ma questioni alleanze, sulle alleanze è tutto ancora nebbia, SEL, IDV, UDC, lei da militante ed esponente locale come la vede? Dove dovrebbe andare il PD? Allora il PD deve raccogliere tutte le forze che si trovano all'interno del centro-sinistra, e quindi un'alleanza grande, un'alleanza che voglia concorrere a un progetto per rimettere in piedi e in pista il nostro paese. Quindi c'è bisogno delle forze sane di questa nostra democrazia. Quindi benissimo il centro-sinistra nella sua ampiezza, quindi Vendola, che con SEL si candida a partecipare di questo progetto, ma, come spesso viene ricordato a Bersani, c'è bisogno anche delle forze dell'associazionismo, le forze di tutto quel centro-sinistra, di quelle persone anche, che vogliono partecipare. Questo è un momento molto difficile per l'Italia, è un momento dove c'è bisogno che tutti concorrano per ritirare in piedi questa Italia e, come sempre, tocca al centro-sinistra. Continua la nostra discussione intorno all'Assemblea del Partito Democratico, un'Assemblea, come abbiamo ricordato, che in qualche modo ha ridisegnato un po' la mappatura politica del centro-sinistra. Un'Assemblea dalla quale è passata la linea Renzi, nuove regole, regole precise, che aprono le primarie del centro-sinistra, i tre big contendenti sono Bersani, Renzi e Vendola. Con noi abbiamo Riccardo Lunardon, sindaco di Sordevolo, consigliere provinciale di centro-sinistra, tesserato il Partito Democratico da anni all'interno del partito, che però appoggia la mozione, ovvero la linea politica di Renzi. Lunardon, perché lei che cosa vede in Renzi e soprattutto se secondo lei non rischia di essere un po' una bolla di sapone? Allora, a Renzi secondo me quello che farà dopo domani nessuno lo può sapere, perciò bolla o non bolla, andremo a vedere, non andremo a vedere. Io sono comunque un uomo che è sempre stato sul pratico, prima di andare a dare giudizi o quello che succederà, voglio capire sul campo quello che poi uno mette. Cosa ha messo Renzi di diverso? Chiaramente, usiasma. Siamo in un partito democratico, io sono entrato in questo partito proprio perché non sono mai stato, ho sempre cercato di essere perlomeno una persona che piace il dialogo, piace confrontarmi. Il Partito Democratico per me è questo, la democrazia è proprio questo, avere dell'opinione, avere delle idee, avere dei programmi, confrontarsi e poi cercare la linea comune e comunque lavorare per quello che poi sarà la linea comune, perché mettiamoci bene in carico che se domani Bersani vince, probabilmente vincerà, secondo me è giusto mettersi a disposizione di Bersani, non è giusto sentirmi dire, quando sento dire che Renzi è solo qua per far bella figura a lui, per disfare, non è vero, Renzi ha una maniera di fare politica che a me piace, prima di tutto perché è un amministratore, ed è una cosa fondamentale nella mia maniera di vedere, perché comunque la politica la lascia forse in secondo piano. Sì, se ricordiamo il sindaco di Firenze. Di Firenze. Poi io penso che il PD è nato proprio per andare a raccogliere in un bacino ampio, cioè io non sono scritto al Partito Comunista che la pensava solo in una maniera, o alla Democrazia Cristiana o a Margherita che la pensava in un'altra, hanno fatto il PD proprio per coinvolgere più persone in un dibattito politico e per avere anche un elettorato ampio. Perciò io penso che Renzi sia adesso l'unica persona, secondo me, perché io lo dico perché è il primo che ci credo, che riesca a dialogare con quelli che dieci anni fa votavano l'Ivo e che si sono persi per strada. E che magari hanno votato Lega. Lega, hanno votato Lega, ma anche qualcuno proprio della libertà. Ma perché? Perché non trovavano più un leader credibile nel centro-sinistra, credibile per la loro maniera di vivere, la loro maniera di vedere il Paese. Cioè è difficile, delle volte io penso, che per vincere bisogna trovare la persona che riesca a dialogare con più persone, che abbia un programma che vada bene a più persone. Io quando penso alla politica del domani, e vedo quello che è successo ieri, l'altro ieri, non si devono fare la coalizione solo per vincere, perché non stanno in piedi, dobbiamo fare un percorso per arrivare ad avere una maggioranza parlamentare stabile. Perciò io penso che per ottenere questo bisogna dialogare soprattutto con chi una volta la vedeva come te, ma che si è perso per strada. E che può ritornare a vederla come te. Perché io dico che Renzi va bene. Con noi un altro esponente di spicco del Partito Democratico biellese, ex sindaco di Biella, attuale capogruppo Palazzo Roppa, Vittorio Barazzotto. Ecco, regole ferre e chiare con le uscite dall'Assemblea, però si ha la sensazione di un partito democratico un po' disorientato, liquido, come l'ha chiamato Ilvo Diamanti su un editoriale La Repubblica. Ovvero, ora il PD con chi va? Ma il PD con chi va? Il PD va, e questo per la prima volta io credo che sia una tappa storica nella storia democratica di questo paese, nel senso che fa appello al popolo italiano per chiedere di disegnare quale sia e quale sarà il proprio leader. È una procedura che in altri stati è ormai consumata, ma da noi è innovativa. Credo che faccia bene al PD, quindi al popolo del centro-sinistra, ma che sia un ottimo esempio anche da seguire per il centro-destra, cioè un contributo affinché si realizzi la democrazia e ci sia un po' di ripresa, nel senso più nobile del termine, dalla politica, visto che oggi, voglio dire, abbiamo moltissimi esempi negativi, ma occorre riprendere la politica, nelle sue accezioni più nobie, nel senso di onestà, nel senso di rilancio, soprattutto in un momento difficilissimo che il paese sta attraversando. Con chi va? Io credo che il segretario Bersani l'abbia detto, ci saranno delle primarie aperte ai leader della coalizione, chi vincerà si prenderà l'onore e l'onere di guidare il prossimo governo, e io credo che a oggi, voglio dire, nel giro dei prossimi giorni, si decideranno quale saranno le alleanze, una volta che ci saranno le primarie si saprà quale sarà il leader del centro-sinistra, ma il segretario ha lasciato anche aperto, voglio dire, l'eventualità che altre forze si possono aggregare, accettando ovviamente il riconoscimento del leader stesso. Ecco, quindi abbiamo detto, appunto abbiamo ricolato, che lei è un esponente di spicco qua nel biellese, secondo lei questa, la decisione dell'assemblea, ha delle ripercussioni anche qua nella nostra provincia, insomma, qual è l'indirizzo della segreteria adesso? L'indirizzo della segreteria è quello di appellarsi a far sì che la gente, voglio dire, che ha delle simpatie nei confronti del centro-sinistra, vada a votare e partecipi in modo che è una forma per portare la possibilità, voglio dire, ai cittadini di poter contare, dire io dirò la mia e voglio contribuire anch'io a dire chi sarà il prossimo premio, il prossimo capo del governo, al di là di quello che sarà la scheda elettorale. Quindi le primarie è una forma di grande partecipazione e questo va riconosciuto a Bersani, una grandissima disponibilità, perché lo statuto non prevedeva questa formula, secondo me ha fatto molto bene Bersani dando questa opportunità di rilancio, di spazio democratico, mettendosi in gioco, sfidando la suggestione che può essere proposta da Renzi, a un capolavoro di mettere insieme le varie anime all'interno del PD come è avvenuto sabato, ma soprattutto se c'è un merito in questo governo e se Monti ha dei meriti, ricordo che è stato fortemente voluto e sollecitato dal PD. Grazie a tutti!